uè non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi finalmente ci siamo oggi tra pochissimo arriverà il winter fest non vediamo l'ora di ricevere anche quest'anno un bel po di ricompense gratuite che gentilmente epic games vuole donarci ovviamente per festeggiare anche tutto il periodo natalizio abbiamo già tantissime informazioni sappiamo già tutti i premi sappiamo già cosa sarà il winter fest nel dettaglio e ne parlerò proprio in questo video insieme anche a delle indiscrezioni che sembrerebbero essere relative alle nuove armi che verranno rilasciate giorno per giorno in realtà le armi non sono proprio nuove perché alcune le abbiamo già viste se avrò due secondi vi farò vedere anche una lista molto interessante volevo prima ringraziare però tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi in live su twitch dalle 8 alle 18 grazie mille ragazzi per la vostra compagnia per il vostro supporto e grazie a tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone mi raccomando ragazzi iscrivetevi ai canali e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica dei miei video ma prima è un po che non ve la faccio la domandina ragazzi non può mancare domandina molto molto curiosa che chiude il capitolo fortnite x star wars e non poteva che essere proprio questa ma te quale spada preferisci dai ce ne sono quattro ogni volta che apriamo la cassa blu quella rossa è quella un po più particolare poi c'è viola verde e blu io personalmente prendo quella rossa mi piace tanto e ci sta un botto tanta roba ma te invece quale scegli scrivimelo qua sotto nei commenti mi raccomando ma quindi ciancio alle vande e non mi parte si che parte e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere la notizia che oramai da un paio di giorni è arrivata nella lobby delle nostre partite il mezzinverno è alle porte questa è proprio una schermata che ci fa capire che siamo nel winterfest e se quella che state vedendo è la schermata originale ufficiale queste forse non le avete ancora viste sbam come vedete siamo proprio nella casa dello schiaccianoci bellissimo è una delle quelle skin che a me piace davvero tanto spero possa tornare perché personalmente mi manca e come vedete la parte relativa al winterfest sarà interattiva con il giocatore tra queste immagini ce n'è anche un'altra ad esempio questa calza di natale noi non utilizziamo proprio le calze per il natale ma non è importante che potete appunto scuotere e aprire per ottenere il vostro regalo un'altra pila di regali che troverete sulla sinistra sarà interattiva quindi dovrete essere voi a scegliere quello che preferite e sperare ovviamente di trovarci dentro il regalo desiderato vi ricordo ovviamente anche che il 25 dicembre come già è successo l'anno scorso tutta la mappa verrà completamente innevata prima di andare avanti però voglio farvi vedere proprio come sarà la lobby del winterfest e quindi godetevi ragazzi questa animazione ciao musica insomma ragazzi come vedete una lobby davvero tutta completamente dedicata al Winterfest e ovviamente la domanda che viene spontanea è Max Huder alla fine questi regali che ci dovrebbero dare quali sono e quanti sono beh ragazzi ce ne sono davvero per tutti i gusti quindi anche per questa volta voglio farvene vedere uno per uno un'altra domanda che Grazie. 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 Grazie.